Quanto sei d'accordo con questa affermazione da uno a cinque? Assolutamente no, è una cosa anzi che mi infastidisce. Sono cattivi, quasi tutti. Non amo particolarmente, per dire, tutto il nuovo mondo dei burger, che nascono proprio per dare il gusto carne. Non mi piacciono. Non ho questo rimpianto, assolutamente. Non vedo perché fare questa... Inutile emulazione, visto che non ho mai mangiato la carne, non mi interessa che abbia quel sapore. Magari posso assaggiarla sapendo che tanto è vegetale, però non lo trovo così entusiasmante. Non mi viene voglia di simulare quella cosa nella mia cucina tutti i giorni. La cosa bella è quando smetti di cercare il sostituto. Diventa altro quello che puoi mangiare, è quello che vuoi mangiare. Quando penso sostituti della carne, sostituti vegani, penso più alla parte industriale che si trova al supermercato. Ecco, di quella non sono fan. No, non sono un grande fan. Non li trovo per me, ovviamente, necessari. Mi ricordano troppo quell'animale e mi fa una certa impressione. Per me ormai quel sapore è legato a qualcosa di sgradevole, legato al passato, non mi interessa più. Il corpo ha delle memorie olfattive, visive, gustative e all'inizio rimuovere completamente determinati piatti senza ingannare un po' il corpo può essere difficile per qualcuno. Per me sicuramente lo è stato. Adesso non ho più veramente molto bisogno di questo. Ho cambiato proprio modo di pensare al cibo, di pensare al pasto. La tradizione è la parente più stretta della morte della rivoluzione. E anche avere l'idea di avere la bistecca a tavola la domenica. È un sogno stupido che ha a che fare col benessere post-seconda guerra mondiale, eccetera. Penso che il dibattito debba andare in questa direzione, piuttosto che nel ricreare, sostituire, rifare quello che già c'è in maniera vegana. A me non frega niente che ci sia del cibo, a me non frega niente che ci sia del cibo che sa di carne. Cioè io sarei diventato vegano, oppure se ci fosse stato soltanto riso e lenticchie. A me la carne non mi piace, non mi piaceva, non mi è mai piaciuta. Non è che mi manchi la carne, quelle lì però ovviamente sono buone, sono gustose. Prendiamo per esempio l'affettato vegano. Uno è buono semplicemente perché ci mettono gli aromi, esattamente come ce lo mettono nella carne. E due è buono perché è una cosa veloce da mangiare. Tanti essendo preparati sono anche dei salva pasto, quindi quando arrivi che hai avuto la giornata piena, poi fai gli allenamenti e tutto torni, tac, metti su queste cose qui. Te lo dice uno che per due anni aveva un locale di burger, burger vegetali. Il burger è una forma che puoi comporre come vuoi, dargli il gusto che vuoi. Viva il fake meat, viva il viusterone. E invece cosa pensi dei cibi che simulano il pesce? Ho provato solo il tonno finto e quello mi è piaciuto. Complimenti a chi l'ha inventato. Poi per il resto ci devono lavorare ancora. Spero che qualcuno accolga il mio appello. Perché il pesce mi piaceva un po' di più della carne. La pasta col tonno e l'oliva era la mia pasta preferita, quindi ho provato a rifarla recentemente con questo tonno vegetale. Poter essere tornata a mangiare la pasta al tonno, però senza che nessuno soffra per questo, è stata sicuramente una grande conquista. D'altro canto devo ammettere che alcuni degli hamburger, per esempio, che simulano la carne, mi lasciano sempre un po' titubante dalla serie cosa sto mangiando esattamente. Quando ho provato per la prima volta degli alimenti che ci assomigliavano, mi ha dato anche fastidio. Ho fatto fatica a finirlo. Adesso l'idea di mangiarmi un panino hamburger mi fa piacere, quindi sono contenta che ci sono i surrogati, ma... Per quel che mi riguarda, non ho bisogno. Questa non è una cosa di essere schizzinosi, è semplicemente che dopo tanti anni il palato cambia completamente. E anche poi gli odori che si sentono dei prodotti di origine animale si percepiscono anche in maniera diversa. Alcuni cibi vegani che ricordano così tanto la carne sono più un... forse è meglio tornare al tofu. Ci sono delle volte in cui dico ah, c'ho voglia di sfondarmi con un hamburger grosso così e se posso scegliere non scelgo petti fatto di carote e quinoa. Non dico tutti i giorni, però dai, tre volte al mese mi capita di mangiare hamburger che sembrano di carne. Il sapore della carne non mi ha mai proprio fatto schifo, cioè, fatta eccezione magari per alcune cose. Se non sono fatte effettivamente di carne, non capisco perché non mangiarle, quindi sono buona. Posso tranquillamente vivere senza, ma se trovo alcuni prodotti, anche soltanto per curiosità, a me piace provarli. È quasi una cosa scientifica, no? Io li voglio provare perché voglio vedere cosa riescono a inventarsi. Più le cose sono simili, più mi tranquillizzo che dico dai ce la stanno facendo, quindi forse anche chi proprio si ostina a consumare la controparte animale per via del gusto, quando se li troverà davanti, è verosimile che li scelga. Io apprezzo quando posso magari mangiare un piatto come le lasagne però vegano. Sono cose che secondo me sono utili perché le lasagne fanno parte della mia tradizione in quanto italiano. Semplicemente sono un italiano vegano che mangia lasagne vegane. La mia lasagna preferita è con un ragù fatto proprio nella maniera classica bolognese, quindi sostituisco semplicemente il macinato con il glone di soia, poi la besciamella di solito utilizzo il latte di soia e un burro vegetale. Nel posto del parmigiano invece utilizzo il lievito alimentare in scaglie che è la mia droga da quando sono vegana, perché è veramente l'apoteosi del piacere secondo me. Qua, sul sicuro. Cinque, assolutamente. Io non sono diventata vegana perché non mi piaceva la carne o perché non mi piaceva il pesce. Quindi sì, più un cibo può essere vicino ai gusti che mi ricordano l'esperienza che ho fatto in tanti anni della mia vita, meglio è. Quei cibili mi piacciono molto perché sono saporiti, salati, dà soddisfazione al palato. Buonissimi, ben venga, grazie mille a chi li produce. Bisogna rendersi conto che la maggior parte delle persone non ha voglia di autoprodursi il seitan, di autoprodursi il latte, di autoprodursi la pasta. E io sono molto contento di amici completamente onnivori, tendenti al carnivoro, che mi dicono ma sai che ho comprato tot confezioni di quel prodotto lì perché è proprio buono e mi piace di più della fettina di pollo. Amici non vegani mi dicono vabbè ma se tu non vuoi mangiare la carne perché ricerchi lo stesso sapore? Ma perché devi cercare il prodotto che assomiglia... Ma perché non ti fai un par de c***a tua? E cosa vorresti dire ai detrattori della carbonara vegana? Che trovo stupido ostacolarli o accusare il vegano di ipocrisia solo perché vai a ricercare lo stesso sapore. È un sapore a cui siamo affezionati e quindi è chiaro che può essere umano e comprensibile cercare molte volte di riprodurlo. Ho ricreato tutte le mie ricette preferite della tradizione in chiave veg e se questo dà fastidio a qualcuno perché pensa che è una carbonara vegana non possa chiamarsi carbonara vegana non credo sia un nostro problema. Puoi chiamarli frutti di mare? Sono frutti. Puoi chiamarlo uovo di Pasqua? È un uovo. Si tratta di critiche legate prettamente a un discorso linguistico più che realmente al sapore delle cose. Se stiamo andando a ricreare esattamente quel piatto che vuole avere quel sapore che vuole avere quella tradizione e quel richiamo nei nostri ricordi non la chiamerei pasta con del tofu affumicato del seitan scubettato la chiamerei carbonara. Ma non è offensiva è invece guarda possiamo averla ancora questa cosa qua facciamo in modo che diventi più simile possibile così poi ne possiamo godere tutti e continuare a goderne. non è niente di sacrilego ma anzi è un omaggiare la cultura gastronomica italiana e non solo e veganizzare i piatti ogni ora è divertentissimo quindi ben venga.